Ciao ragazzi, benvenuti in vlog, io sono oggi ragazzi come in Altecnoid House Oggi ragazzi siamo qui per fare tiri di precisioni challenge Avete capito bene raga? Qui vedremo chi avrà la mano buona, ok? Chi avrà la mano più precisa E raga, io... lasciamo stare e tu? Lasciamo perdere raga Noi siamo assolutamente pronti Abbiamo già diverse sfide da fare E più andiamo avanti con le sfide E più ovviamente sarà più difficile E la difficoltà aumenterà parecchio Quindi dobbiamo vedere chi è che partirà per primo Pari o dispari, ormai è la rotina Stavolta io dispari Ok E buttiamole giù Quanto è il tuo? Dipende dalla tua scelta Genius Se il tuo è 0, il mio è 0 Quindi è pari, 0 è un numero pari Ok, è 0 Pari, ho vinto io C***o, non ho fregato No, io sono pari No, tu hai detto No, io ho detto pari Ok raga, partiamo lui Guys, iniziamo subito In questa primissima sfida ragazzi Che cosa dovremmo fare? Dovremo stare qua dietro al tavolo Dovremo buttare la pallina E dobbiamo toccare tutte le superfici, ok? Quindi da qui Qui, qui Finché non entrerà in questa magica ciocola Ok? Ovviamente adesso raga vedremo Jack se riuscirà a fare qualcosa di decente O meno Ci faccio vedere Jack ragazzi è pronto al tiro Vediamo un po' Nada La prima ragazzi Totalmente a vuoto Si toglie le ciabatte ragazzi Vi sicuro adesso sarà più scarso di prima Quasi Mancava veramente pochissimo Mamma mia Terzo tentativo Il punto raga che sembra veramente una cavolata Ma non lo è Non lo è Non bisogna sottovalutare niente Allora facciamo così Jack nada Ora venghi qua Jack Chi tocca a me Ti faccio vedere come gioca il maestro Dai buttiamo un po' di macumbe Segnaci maestro Ma fa cagare va Ti faccio vedere come gioca il maestro Ho sottovalutato questo gioco Via di nuovo Questa è buona Questa è buona No No C'è poco da fare Stiamo muovendo Siamo a due Si va con la terza Sembra una cagata raga Ma non lo è Dai Jack Tocca a te Vuoi vedere al primo tentativo Dai facci vedere Gli occhiali del potere Ma va a cagare Ma sai che stava per entrare in questo momento Si Si però vedi che non aveva toccato tutte le superfici Nessuno ha detto che non si può fare così Giusto Gli dai fuck Il nostro Jack Andiamo a una prossima sfida Ed eccoci qua raga Alla seconda sfida Che cosa dovremmo fare in questa sfida Allora abbiamo sempre più la pallina Sarà sempre tutto di rimbalzo Noi dobbiamo colpire il tavolo Per poi far andare la pallina qui E poi raga dovrà inserirsi qui Ok Noi siamo assolutamente super pronti Per i disperi Disperi Vai Stavolta non c'è né trucchetto E Ok Serio Vai E buttiamo le re giù Sei Sempre Ma vai cagare È sempre stato così Ragazzi Ragazzi poi metterò Metterò il bar Non mi fido Lo l'ho messo dopo Non mi fido Guarda ho vinto io punto Però vedrai Va bene Vedranno Si parte Ciao Eh no così non va bene Perché ovviamente il ragazzo non ha toccato qui Sembra tutto facile Ma poi quando lo provi Nada Viva Non userò i miei paperi Dopo si Va bene Madonna fratella No Sa quando non fare Quando non fare il cazzo bene Ma lo sto sfiorando Facci vedere Jack Sbagliata Sbagliata Bello Che cazzo ti rimbalzo è Perché qua è rotto Vai Sbagliata Sbagliata Bravissima Jack Così ti voglio Anch'io E come anch'io Questa è buona Cheat Porca vacca Questo blu sta provendo Veramente Brucia A 1 a 1 Però aspetta Tu devi ancora fare di nuovo Ah no Vero Tu sei partito per primo Bocca miseria Oh Svegliati No Che ho detto No Non lo dispo Ah no C'era due Quindi Tocca ancora a te Vuoi vedere? Si Ci E ne mancano solamente due raga Ci Si Raga Qua Si Va Con la Bella Ed eccoci qua raga Alla sfida Decisiva Che cosa dovremmo fare? Allora A parte che siamo qui In un bagno Con un dettaglio Qui ragazzi Abbiamo il nostro cestino Qui abbiamo la pallina Noi raga Dovremmo lanciare la pallina E beccare questo muro E beccare pure quest'altro muro Oppure viceversa Scegliamo noi E poi raga La pallina Dovrà entrare Sarà parte difficile Oh porca vacca Guardi Dispari Jack Guardi Dispari Dispari E buttiamole giù Abbiamo sempre tre tentativi Raga, allora, fatemi fare due calcoli No, niente calcoli, qua si va Sì, esatto Oh, madonna Ma non ci credo, raga Due su due, oh Stiamo godendo No, tre Oh, fammelo fare un'altra È giusto per provare, tanto non vale Qua, no, Jack Lo sto beccando proprio tutti, solamente sul bordo, va Riprovo Oh, finalmente Sta cosa è andata Direi di chiuderla qui, Robin, è un dolore Ma vediamo che Oh, si è messo gli occhiali Faccio vedere Che schifo Che schifo E come è andata Eh no, eh no Perché? Eh no Perché? Ha rimbalzato prima qui Deve fare uno, due E cadere dritta Ma è c***o, Setti E nada per Jack Nada per Jack Con tutta la sfiga che abbiamo avuto prima Secondo me, stavolta, ce la possiamo fare Cheat, però Bello Bellissimo Non vale È entrata È uscita Ehi, ma è del mestiere questo No, eh Eh beh, grazie Ma anche per altre sfide Ma così Molto bene, carissimo Jack Direi che qua Siamo pronti a fare una penitenza Mi sa di sì Ok Sapete cosa gli faremo fare? Prenderemo un bicchiere d'acqua Abbastanza ghiacciato Cioè, non per forza ghiacciato Però Abbastanza fresco E glielo butteremo in testa Perché fa freddo Esatto Quindi facciamo così Porca vacca Ma è bello che è fresco, eh Alzati in piedi In piedi sono andato Ecco lei Ma questo gli era maglietta, no? No Vieni qua al centro Stia fermo così Oh, è ghiacciato Come si sente? Caldo Caldo Adesso è proprio fresco Direi che adesso sta al top Sì C'è E perciò Noi ragazzi Come vi vedete Al fine e al fine di questo vlog Lasciatemi un like Un commento magari Porca di quella vacca E noi ragazzi Ci bicchiamo per il suo vlog Bella raga